Ciao a tutti, il nostro gruppo è Roger Rabbit e il nome del nostro progetto è La Fabbrica del Verde. Ci siamo occupati della riqualificazione di uno stabile, dell'ex fabbrica ISF della penicellina del quartiere di San Basilio a Roma e al posto di questo fabbricato abbiamo pensato di creare un polo ecosostenibile, comprensivo di un ostello, di un centro di ritrovo per i cittadini della zona e comprensivo anche di un orto botanico. E ovviamente l'area dovrà essere energicamente autonoma e verrà realizzata mediante l'aiuto di start-up innovative e soprattutto con l'ausilio anche di associazioni di volontariato. E ovviamente con questo progetto noi abbiamo pensato di migliorare l'aspetto e la qualità dell'area urbana e soprattutto poi di riapplicare magari questa iniziativa anche ad altre strutture in decadenza. Grazie per l'attenzione. Ciao!